Ciao a tutti ragazzi, qui è Dexta e oggi sono qui con questo nuovo video su GT5 Online Con nuove gare stante, oggi abbiamo le super, siamo qui insomma appunto con la nostra Osiris Allora 3, 2, 1, partiamo, vai! Abbiamo preso subito il turbo Allora qui abbiamo soltanto un giro, cosa c'era la rampa già messa in maniera abbastanza strana Comunque una gara, come vedete, tutta particolare, ovviamente lo scopriremo vivendo Qui passiamo in due, mamma mia, non ci siamo scontrati alla fine, ci siamo rimasti entrambi lì Abbiamo schivato i birilli, sì ragazzi, qualcuno però forse farà strike, non lo so Vai, checkpoint preso, ripartiamo, sì, qualche birillo, qualche birillo l'hanno colpito Allora qui c'è stato il rallentamento, avevo preso anche la scia però, ma che cazzo è, devo andare Oh merda, quella cosa mi sembrava a terra, invece no, va bene, va bene, continuiamo Tentiamo un front flip ragazzi, tutto stunt, a terra, prendilo, il checkpoint Non ci credo ragazzi, l'ho mancato, l'ho mancato, va bene, va bene Iniziamo proprio alla perfezione, prendi il checkpoint, ok perfetto Ripartiamo, settima posizione per noi, ovviamente, deve andare così Allora, non so, la gara, come vedete, è abbastanza semplice per il momento Cioè non c'è nulla di particolare, vai, altro checkpoint preso, ok Qui piccolo, piccolo slalom, labirinto, dobbiamo saltare qui Vai, uh, ci siamo, rimettila bene, ok perfetto, ce l'abbiamo ragazzi Altro checkpoint, e niente, si continua, siamo all'aeroporto ed è semplicissimo ragazzi Vai, 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 andiamo da questa parte, non so se riuscirò a recuperare a questo punto i primissimi giocatori Però spero che anche loro, ok, qui ci siamo, mamma mia Per poco non siamo andati tutti fuori, uno però, purtroppo ci è rimasto fottuto Anzi no, purtroppo, è una cosa positiva, così restano indietro Siamo in terza posizione, incredibilmente abbiamo recuperato Allora mi sa che quella parte è un po' troll, ha fottuto ragazzi, vari giocatori Allora, qui c'è un pallone che non prendiamo, ok perfetto, arriva, arriva Ok, ce l'abbiamo ragazzi, si continua ancora Qui c'è un altro, merda, niente, comunque una gara stranissima Cioè veramente, una gara piena di cose, di cose strane Intanto abbiamo superato un sacco di triangoli Vai qui, occhio, altro checkpoint Allora il primo è lì, non è molto lontano Quindi potremmo riuscire tranquillamente, credo, a prenderlo Almeno, cioè, dovremmo farcelo, non penso sia una cosa impossibile Intanto devo prendere il secondo, ovviamente Poi forse potremmo prendere anche il primo, prendi il checkpoint Ok, ce l'abbiamo ragazzi Fortunatamente questo qui non l'abbiamo superato Vai Osiris, recuperiamo Dai che devo prendere il secondo, per forza, ce la devo fare Ok, qui intanto c'era un piccolo gradino Quello cos'è, un loop? Sì ragazzi, un loop Il primo è saltato fuori, ok, non so se Se si è riuscito a farcela o O abbia fallito qualcosa, non ho idea Siamo ancora qui No, ok, aveva fatto tutto bene Allora, dobbiamo atterrare adesso In questa piattaforma E partiamo ancora Niente, terza posizione per noi, purtroppo non ce la facciamo A prenderli, non ce la facciamo Vai, 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 potenza Ok, la curva l'abbiamo completata Andiamo ancora qui Queste curve sono pericolose Perché se li fai troppo veloce Poi alla fine esci fuori Perché non ci sono neanche le barriere Attenzione, ok, passiamo qui in mezzo Oh merda Passa qui, passa qui con calma Ok, ce l'abbiamo fatta Questa parte era abbastanza particolare Qui siamo arrivati Merda, c'è soltanto il traguardo ragazzi Com'è possibile? Qualcuno ha sbagliato Siamo in seconda Concludiamo? Sì ragazzi Seconda posizione per noi Ma che cazzo è? Allora il primo Ha concluso in terza Qui intanto la gente si prende a pugni Com'è possibile? Non lo so No vabbè Bug glamorosi ragazzi La gente si prende a pugni Vabbè non ci sono parole Comunque sì Il primo in qualche modo Poi ha sbagliato Boh comunque No abbiamo concluso in seconda Cosa molto positiva Non riesco a capire Come sia possibile Che qui ci siano due giocatori Che si prendono a pugni Boh Non lo so ragazzi Questi sono i bug di GTA Comunque gara molto bella Adesso andremo a fare un'altra E eccoci qui Questa volta con le moto Siamo in un nuovo Total wipeout Abbiamo preso la Batia Anche se La moto consigliata Era la Sanchez Però vedremo un po' Cosa Riusciremo a combinare Vai vogliamo subito Ok Già non ce l'abbiamo fatta Perfetto Il primo checkpoint è in fondo Come dobbiamo fare Per arrivare lì Non lo so Ma mi serve sicuramente Un po' Di velocità Allora Vediamo un po' Se posso fare ragazzi Qualcosa di strategico Vai arriva in fondo Uh Allora Dobbiamo rimbalzare Forse su quei cilindri E poi Magari prendere Il checkpoint Il problema è che io parto Ogni volta Proprio alla fine del tubo Quindi non posso neanche Prendere la rincorsa Allora vai 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 In fondo Arriva Saltella Attenzione Ok checkpoint preso Perfetto Ce l'abbiamo fatta Ovviamente era Abbastanza facile Da capire Allora dobbiamo andare Allora dobbiamo andare adesso Dove Non lo so il checkpoint Proviamo a sinistra Ragazzi Non ne ho idea Proviamo ad andare Da questa parte Vai Vola Bati Ah ma forse Ok Dentro il tubo No è sotto il tubo Comunque dobbiamo arrivarci Forse Per forza Da quella rampa A sinistra Allora Vediamo un po' di farcele Intanto Sta laggando tutto Merda Che cazzo è C'era il corpo di uno Vai Bati Vediamo un po' Se riesco Niente Attenzione Prendilo 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 No ragazzi Sono arrivato lì Ma non l'ha preso No infatti Niente da fare Va bene Comunque dovremmo Dovremmo farcela Prima o poi Questa gara è abbastanza troll Vai Contin Niente Vabbè Così siamo morti Qualcuno intanto Ha già concluso Non si sa come Cioè Siamo qui tutti bloccati Allora Vediamo se posso andare Via Muoviti Vediamo ragazzi Di metterci alla perfezione Quello sta cercando di truccare tutto Vai 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 Impenna 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 Ok forse ci siamo Forse ci siamo Perfetto Perfetto Con calma Atterra qui Merda Nella piattaforma Ok l'ho preso ragazzi L'ho preso Vedete pure troll Perché Nonostante si arriva nel tubo Poi comunque ci resti fottuto Se non sei proprio Centrale Qui c'era il rallentamento Non si sa perché Ci sono pure Altri ostacoli Continuo Veloce Veloce Vai qui sopra Perfetto Ok ok Niente Comunque è abbastanza Cioè ci sono Come vedete Tante cose Trial Appunto Total wipeout Però è pure un po' troll Vai 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 Continua Ok checkpoint Preso Vediamo un po' se adesso avremo altri rallentamenti Perché è incredibile Vai Ok ce l'abbiamo fatta Altro checkpoint Siamo in sesta posizione Checkpoint adesso è giù Dovremmo prenderlo Guardate io lo prendo così Tranquillamente Perfetto Ricompariamo Cerchiamo di Insomma Facilitarci Il tutto Allora adesso Ce n'è uno in fondo E c'è però quell'ostacolo Vai Oh merda Niente Qui devo andare Uh Ce la stavo quasi per fare Qui devo andare pianissimo Per centrare il buco Il problema è che c'è l'ostacolo Cazzo Adesso ero Ero messo lì perfettamente Però c'era il fottutissimo ostacolo Comunque Non è difficile Allora stiamo un attimo calmi Vai proviamo ad andare adesso Con calma Con calma Con calma Vai Centralo Centralo No no Oh merda Ragazzi Passa Passa Non fare scherzi Non fare scherzi Entra dentro Ok ce l'abbiamo fatta Checkpoint preso in qualche modo Cerchiamo adesso di scivolare Da questa parte Merda Ma perché C'è incontro sempre gli ostacoli Comunque dovremmo esserci Vai mi hanno spinto Ma non l'abbiamo preso Niente Vabbè non ci sono parole Non ci sono parole Allora andiamo da questa parte Tranquillamente ragazzi Vai vai Potenza 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 Prendi il checkpoint Ok perfetto Dobbiamo fare anche Le varie cose In maniera Anche un po' Intelligente Per superare Tutte queste parti Troll Checkpoint preso Siamo andati in acqua Ricompariamo Comunque il terzo Adesso ha concluso Quindi Io sono in quinta Dovremmo essere Alla fine piuttosto vicini Qui c'è l'acqua Ok si poteva tranquillamente andare Mille ostacoli Vai 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 Supera tutto Supera tutto Supera tutto In qualche modo Andiamo Ok ce l'ho fatta Quarta posizione Manca soltanto il traguardo Il traguardo è qui Andiamo Ok è nostro Perfetto Mamma mia Niente una gara Ragazzi Cioè Il total wipeout Si sa È una cosa abbastanza Comunque complicata Anche l'altra Gara del genere Che avevamo giocato Insomma un po' di tempo fa Era comunque complicata Aveva magari delle parti troll Ma questa qui cazzo Era quasi impossibile Perché C'erano dei punti Troppo troppo strani Comunque alla fine Ci siamo riusciti Qui addirittura C'è qualcuno Che ancora è nella parte iniziale Non so come sia possibile Però Insomma Ogni volta C'è qualcuno Che non riesce A fare completamente Queste gare Comunque sia Molto bella Adesso andremo a fare un'altra Altra gara Nuovamente con le super Ho preso la pro genetti 20 Perché era insomma L'unica auto consigliata Quindi Non so ragazzi Che gara sarà Però Intanto sono arrivati Dei palloni Vai partiamo Ok Il primo checkpoint Ce l'abbiamo subito Un giro per noi Tutto guidato dall'inizio Continua da questa parte Mamma mia World Ride Impressionante Ci siamo ragazzi Ovviamente qui Era molto molto importante Avere l'auto consigliata Allora vai Stiamo andando alla grande Forse c'è qualcuno dietro Non lo so io per il momento Non guardo Perché qui come vedete Ci sono tantissime Tantissime parti strane Ok Arriviamo direttamente lì Sì sì Per forza Dovremmo riuscire ad arrivarci Infatti anche se Dietro c'era comunque del turbo Allora atterriamo E si continua ragazzi Allora dietro c'è qualcuno Sì Qualcuno sta arrivando Questa cosa è un'altra parte Poi Forse guidata Sì ragazzi C'è qui Insomma la barriera Vai vai Seguiamo la guida Segui la guida Tutta la perfezione Vai con il turbo Non fermiamoci Vediamo un po' Che cazzo c'è ora Ok noi continuiamo Qui centralmente Stiamo scivolando col tetto Sì ragazzi Grandissimo scivolo Attenzione L'auto si gira da sola Per il momento Sta facendo tutto da sola Vai Ok perfetto Ci siamo Incredibile Incredibile Cerca qui adesso Di andare alla perfezione Ok Scivolo col tetto Completato E niente Si continua ragazzi Vedete queste gare Sono bellissime Allora Atterriamo qui Le posizioni Si cambiano Ma io sono in prima Per forza Prendi il checkpoint E infatti ragazzi Siamo in prima posizione Per il momento Gli altri sono Molto indietro Vabbè Niente tanto Dai c'è il secondo Che comunque È sempre più o meno vicino Allora Continuiamo per questi Megatubi Attenzione Tutti gli ostacoli Qui li superiamo Senza problemi E andiamo ancora Vai vai Progen Non molliamo Progen Lì c'era il tubo Un po' aperto Allora Adesso cosa abbiamo Niente Dobbiamo farci Qualche curva Qui nei tubi E poi Forse c'è una piattaforma Non lo so Non lo so Comunque noi continuiamo Attenzione Ok Ostacoli superati Di nuovo E niente C'è un salto dopo Va benissimo C'è un salto col turbo Quello Intanto Niente Si è allontanato Forse un po' di più Rispetto prima Vai 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 Continua E adesso ragazzi Sbucheremo fuori Vai che c'è il turbo Lo vedo L'ultima parte del tubo E saltiamo ragazzi Perfetto Qui c'è la piattaforma Con il traguardo Ok perfetto Adesso colpisco una pallina E niente Concludiamo E boom ragazzi Prima posizione per noi Tutta la gara In prima fottutissima posizione Questa qui è andata Veramente benissimo Niente Come avete visto C'erano delle parti Abbastanza guidate Direi Niente Poi quella dello scivolo Col tetto insomma È stata sicuramente La più bella Ragazzi che dire Io spero che il video Vi sia piaciuto Abbiamo giocato Tre gare Molto belle Abbiamo giocato Anche un nuovo Total wipeout Che è stato Abbastanza complicato Io spero che il video Vi sia piaciuto Qui a Dexta Lasciate un mi piace E ci vediamo Al prossimo video Ciao Ciao» Ciao вже Ciao Sow je Ciao Grazie per la visione!